ed eccoci qua buonasera come sempre venerdì sera al pala 7 battute monologhi personaggi come non venire pala 7 si spalanca una porta dentro un appartamento entra il marito tutto agitato con una schedina a mano e gli fa a mo come rifai valigio ho vinto 5 milioni al super nell'otto a moglie che in quel momento sta a cucina butta tutto per te e fa che ci metto estivo invernale metteci tutto perché te ne va da casa e pala 7 è tutto questo è tutto quanto così ma siamo uno peggio dell'altro a posto come è venuta bene si è sentito tutto che perfetto il figlio al padre papà ma che c'è dopo la morte e il padre dipende se era uno che testava sul casso pure una festa adesso pure è finita ciao